Il Benevento ragazzi ha ufficializzato ormai da qualche giorno Agostinelli, infatti lui il quarto allenatore che guidirà la strega in questa stagione, cosa ne penso? Onestamente non lo conosco e la salvezza è quasi un miraggio e onestamente non ce la meritiamo, mi dispiace molto per le gestioni Cannavaro e Stellone perché secondo me sono degli allenatori che hanno buoni spunti, però quest'anno al Benevento è girato tutto storto, o meglio è stata una stagione programmata, progettata, male e finita, secondo me ancora peggio. Ma quello che oggi voglio dire io, sono preoccupato per il presente chiaramente, ma quello che mi auguro è un futuro ancora roseo sotto la gestione Vigorito o comunque sotto la sua gestione con qualche altra cordata, qualche altro socio insieme a lui, perché quello che ha fatto Vigorito per questa città, per questi colori, per tutta questa gente è qualcosa di grande, qualcosa che merita di essere sicuramente ricordato e merita di essere raccontato come un qualcosa di bello, un qualcosa di grande che ci ha fatto vivere e ha fatto vivere a tutti. Grazie Presidente.